Io devo un grazie sicuramente prima di tutto al sogno di mio padre, mio padre era un proiezionista di una grandissima casa cinematografica degli anni 40, 50 e 60, la Luxfilm e lui era il proiezionista in queste proiezioni private, due proiezioni avevano due sale, perché proiettavano tanti film che vendevano all'estero, proiettando tante immagini certamente ha sognato di far parte di quelle immagini e qualche volta mi portava un bambinetto a me con lui, mi sedevo su quello sgabellone e guardavo dentro quel obloquadrato che l'operatore vede la proiezione se è a fuoco, se è in linea etc. e mettevo le mie manine per non essere disturbato dalle luci dell'arco voltaico della sala e guardavo queste immagini mute, perché dentro la cabina di proiezione non c'è il sonoro, c'è il rumore del proiettore etc., a quell'epoca particolarmente. Io ho cominciato lì a vedere queste cose che immagino dieci anni, e quindi da quello lui mi ha spinto a studiare fotografia. Ho fatto cinque anni di fotografia alla scuola Ducata Osta e qui c'è un altro episodio che chiarisce questa storia tra le due dominazioni. A quell'epoca la Luxfilm aveva sotto contratto, come si faceva nelle grandi case americane, a registi, attori e anche dei grandi personaggi che a quell'epoca si chiamavano direttori della fotografia. Uno era l'ingegner Piero Portalupi, è stato da mia conoscenza l'unico lavorato in ingegneria e sembra che sia stato lui l'autore fondamentale della corsa delle bighe di Spartacus degli anni 50, tanto era complessa quella cosa lì. E mio padre chiese a lui, ingegnere mi scusi da disturbo, c'è mio figlio che ha studiato cinque anni, fotografia pensi che sono entrati 35 alunni, solo cinque sono stati diplomati alla scuola, mio figlio è uno di questi, è un bravo ragazzo, tutte le cose che un padre dice di suo figlio, e dice me lo potrebbe prendere come secondo aiuto, terzo aiuto, tanto che lui possa iniziare a capire bene il cinema, eccetera. E lui ha detto no Renato, e ti spiego perché un no, perché lui ha studiato fotografia, noi facciamo cinema, quindi lui mandalo al centro sperimentale di cinematografia, lui studierà quello e dopo quello sarò molto felice di averlo lui come assistente. 1956, cioè già mi ha dato questa differenza fotografia e cinematografia, io ho avuto la testadaggine di continuare anche perché la famiglia era una famiglia povera, io a undici anni andavo a scuola al mattino e lavoravo in uno studio fotografico pulendo i pavimenti, pulendo le bacinelle, ritoccando, facendo tutti i vari livelli diciamo in uno studio fotografico, ho trovato il centro sperimentale, ero troppo giovane, non potevo entrare, un'altra piccola scuola che ho fatto per due anni per mantenermi studente e poi finalmente ho tentato l'esame al centro sperimentale, mi è andata bene, sono entrato, ho fatto due anni meravigliosi e ho capito una struttura base, la struttura base era un po' la tecnologia di quello che è l'immagine cinematografica, sono uscito, ho cominciato la carriera e è stata molto rapida perché all'epoca a me si veniva molto dalla gavetta diciamo, erano pochi quelli che uscivano dal centro sperimentale, io Luciano Soli, pensi che il centro sperimentale all'epoca e aveva una nomina internazionale straordinaria, Garzia Marquez, lo scrittore, venne a Roma per fare il centro sperimentale perché lui voleva fare il regista anche, Néstor Armand, Luciano Soli, De Santis, alcuni personaggi hanno fatto questo tipo di scuola, da quello ho avuto l'opportunità in pochissimi due o tre film che ho fatto come assistente di conoscere Bernardo Bertolucci, 1963, lui aveva 22 anni, io 23, ero un assistente, però ho visto Bernardo che nelle configurazioni tra la scuola e quelle poche cose che avevo già fatto non avevo mai visto, lui scriveva con la macchina da presa, cioè lui quel senso di prendere il mirino e cominciare a disegnare l'immagine, nella sua mente conosceva ovviamente lo scritto, eccetera, e vedeva come doveva essere fatto e dopo di quello nessuno poteva dirgli come metterla o come dirigerla, Aldo Scavarda che era il direttore della società dell'epoca tentava, a volte diceva, no Aldo lasciami stare, questa è una cosa che riguarda me e lì ho capito quanto era fondamentale per lui modificare la sua espressione, lui figlio di un poeta, Attilio Bertolucci, uno dei più grandi poeti che abbiamo avuto in Italia in quell'epoca, era amico di Moravia, amico di Pasolini, amico dell'Anamorante, di tutti i grandi scrittori, questo era il mondo di Bernardo, lui ha tentato di fare anche lui seguire le ombre del padre, cioè di fare scrittura, vinse anche un premio di poesia che aveva 18 anni, poi però intelligentemente ha capito che non poteva continuare a tentare di superare il padre nella stessa area, nella stessa arte e lì ha imparato a decidere quello che era la letteratura delle immagini e quindi la scrittura, facendolo diventare poesia, quello a me mi ha sconvolto proprio in modo scioccante, qui ho capito che tutto ciò che mi era stato insegnato erano notizie tecnologiche, ma non appartenevano all'espressione, non rinuncio a vari film e non ho fretta di qualcuno che essendo io operatore di macchina, molto giovane all'epoca, 21, 22, 23 anni, 25 e così, mi offrivano di fare film perché forse non mi sentivo pronto, forse non mi piacevano le storie, forse non mi sentivo in una sintonia, armonia con quei registi che me lo proponevano, non lo so, però non mi sentivo che era il momento giusto, finché è arrivata una proposta giusta da Franco Rossi, io avevo 28 anni, con giovinezza a giovinezza, l'ho incontrato, mi è apparso una persona straordinaria, mi ha dato un rispetto, mi ha dato, io ero giovanissimo, all'epoca per diventare teotografia ci arrivavi a 40 anni più o meno, nelle forme della gavetta, 10 anni ogni step della nostra carriera, mi ha raccontato quello che voleva fare, io vi ho presentato quello che era una volta letto la sceneggiatura delle mie idee, lui l'ha apprezzato e mi diceva Vittorino, mi chiamava Dottorino, abbiamo fatto un film meraviglioso, giovinezza a giovinezza sono stato per me, ho visto che era il giusto esordio e lo dico sempre ogni volta che incontro giovani nelle varie accademie, non avete fretta, certo non esagerate perché poi bisogna essere anche un pochino, avere una mente giovanile per proporsi, proporre cose nuove, avere anche il minimo di arroganza giovanile per scavalcare certi spazi, dovete però essere anche pronti con una certa conoscenza, una certa esperienza, un certo studio, perché un buon esordio sta dicendo a tutto il mondo che ci circonda dove tu vuoi andare, che non hai fatto quegli altri tipi di film che sono di natura diversa, io li ho rifiutati, io ho continuato a rifiutarli e ero poverissimo in casa, meno male che mia moglie lavorava e mi dava la garanzia che c'era quel minimo di piccolo appartementino che avevamo e c'era la minestra per Francesca, la bambina, quindi mi ha permesso anche questo diciamo, però questo è stata una grande determinazione iniziale mia, finché finito il film sono andato con Antonia a Piazza Navona a fare una passeggiata e ho visto una chiesa, spesso entravo io nella chiesa come andare a un museo, non soltanto per ragioni religiose e ho visto curiosamente un grande silenzio, c'era in fondo alla navata di sinistra, c'era un gruppo di persone che guardava in alto, ci siamo accostati e man mano so che andavo avanti a un certo punto ho scoperto delle immagini che non conoscevo, una pittura mai vista, di un pittore che non sapevo chi era, dopo ho capito che c'era un quadro particolarmente quello di sinistra in cui questo genio aveva dipinto il viaggio della luce, c'era un raggio di luce di tramonto che tagliava completamente il quadro, io sono rimasto sconvolto, dico ma chi è questo, come si chiama questo pittore? Michelangelo Merisi da Caravaggio, la vocazione di San Matteo era il dipinto, ho capito che non c'era soltanto tecnica, non c'era soltanto racconto ma c'era anche la filosofia, c'era il simbolo, ho cercato di studiare quel raggio, di capirlo, devo sapere cosa vuol dire questa cosa qua, quindi ho cercato di colmare quella cosa che la scuola mi ha dato la tecnologia, ma non conoscevo le arti e quando sono riuscito piano piano a capire, a conoscere e sperimentare man mano quello che conoscevo in ogni film, ho colmato una parte mancante, a un certo punto ho deciso di scrivere le ideazioni visive, cinematografiche che avevo, che presentava il regista, perché conformista a quel tipo di visione, Bernardo mi ha fatto delle proposte, io ne ho fatte altre, per cui insieme abbiamo cresciuto la cosa, ma poi sempre più sono io quello che ho impostato alla visione figurativa dell'illuminazione, dei colori su tutti i film e Bernardo è quello che me l'ha accettato e se no non potevo farlo ovviamente, non solo Bernardo ma tutti gli altri registi, ho detto è meglio che io le metto per iscritto, prima che la memoria mi tradisca, ho cominciato a scrivere e poi ho capito, ma io non sono un scrittore di parole, io sono un scrittore di immagini in caso, allora faccio delle fotografie e un giorno casualmente, proprio agli inizi del primo o secondo o terzo film, non mi ricordo qual era, la macchina fotografica si è inceppata, e mi piaceva che l'immagine ho forzato e ho scattato, quando ho mandato il rotolino a una diapositiva a sviluppare è venuta fuori una doppia immagine e dico ma meravigliosa, cioè io non sono più solo un fotografo che mi esprime in un'immagine, quando io faccio cinema sono un cinematografo, adesso ho scoperto un modo che anche nella fotografia posso mettere due cose che possono essere un personaggio e un ambiente, un personaggio o un altro personaggio e le posso mettere insieme, le faccio dialogare, che possono avere un dialogo armonioso o possono avere un dialogo di conflitto a secondo della storia e quindi ho cominciato a fare questo qui, ho cominciato a scrivere dei libri. Questi libri, il primo è stato nel 2001, non era su di me, sulle mie ricerche, i miei studi, perché mi sarebbe piaciuto che tutti i giovani studenti che venivano facessero questo processo di conoscenza che io ho fatto leggendo, cercando, andando in biblioteca e dappertutto, lo potevano fare tramite dei libri sulla luce, poi sui colori nel 2002, poi sul 2003 sugli elementi, cioè ho cercato di non solo più dividere luce e ombra o dalla luce i colori e non solo vedere il rapporto che c'erano tra loro. Dopodiché tutte le fotografie che facevo mi sembrava che erano interessanti e da lì abbiamo con mio figlio Giovanni messo su una mostra fotografica che oggi è a Palazzo Merulana fino a novembre. In tutto il mondo abbiamo un'associazione che ci unisce un pochino in quelle che sono le conoscenze delle nuove tecniche, i rapporti personali, eccetera. La più antica di queste associazioni è l'americana, l'American Society of the Cinematographer che è del cento anni fa, quest'anno fa i cento anni. Nel bene e nel male, all'epoca, nei primi ordini del cinema, chi deteneva la proprietà del progetto e alcuni della proprietà anche di decisione era il produttore. Il produttore chiamava una serie di collaboratori come uno scrittore, uno scenografo, un cinematographer, essendo l'associazione cinematographer viene da cinematografi, cioè la grande differenza in italiano è fotografia, dal greco foto, luce, grafia, scrittura. Chi esercita la fotografia è un fotografo, un grafo è uno scrittore. Il cinema ha bisogno della disinenza kino, motion, rispetto alla fotografia, quindi diventa una foto cinematografica, diciamo, quindi la nostra posizione è la fotografia cinematografica, che è lungo, sono due parole, in inglese è molto più semplice, photography, cinematography, da photography, photographer, cinematographer, cinematographer. In italiano dovrebbe essere lo stesso cosa, dalla fotografia c'è il fotografo, dalla cinematografia c'è il cinematografo. Questo ce l'hanno rubato i nostri nonni traducendo male quello che era dal cinematograph Lumière o dal cinematografo americano e l'hanno tradotto, andiamo al cinematografo, ma un grafo non è un luogo, sebbene ancora oggi Marzullo ci fa la trasmissione che si chiama cinematografo, che è una rivista o una cosa, cioè c'è stata l'abitudine di usarlo. Quindi quando i registi americani, fino ai anni 50, hanno formato la Directors Guild of America, i cinematographer che in quel momento, in quel periodo, sul set, erano un po' loro che guidavano la struttura di come girare un film. Il produttore chiamava il regista per dirigere gli attori fondamentalmente, sono stati gli europei, tedeschi e svedesi a dire no, un momentino, per noi la macchina da presa è come la penna, quindi la scrittura dove va la macchina da presa o il suo movimento dipende da noi. C'è stato un grande dibattito a quell'epoca, però poi gli americani hanno ripreso il sopravvento, hanno sempre i cinematographer deciso come girare un film. La maggior parte comunque ha sempre utilizzato praticamente nel campo dei registi una struttura portante che poi utilizzava il montatore come ritmo, cioè fare quello che si chiamava master, cioè una scena larga di tutto quello che accade e poi fare una serie di primi piani e il montatore rimontava. Gli europei hanno cominciato invece a muoversi anche per un fatto di, praticamente negli anni 60, inizio anni 60, proprio la generazione in cui sono nato io, Bertolucci, Berlocchio, Cavani, etc., il fatto che erano loro che decidevano il tipo di visione, diciamo. Lì è cominciato questo tipo di conflitto. Allora gli americani all'epoca hanno detto anche noi vogliamo essere director e ci chiamavano più cinematographer, ci chiamavano, sebbene l'associazione è rimasta American Society of Cinematographer, ci chiamavano director of photography. Tutti in Europa e dappertutto l'hanno scimmiottati, ma non hanno tradotto la parola director in regista, perché chi è Francis Coppolo o Scorsese? Un direttore americano, un regista, ma l'hanno tradotta direttore, facendo due errori. Direttore of photography o direttore di fotografia è sbagliato perché uno, noi siamo come struttura cinematografica, come una struttura di un'orchestra. esistono vari solisti che cronano il violino, il piano, il canto, eccetera, come noi abbiamo lo scrittore, lo scenografo, il costumista, il cinematografo, il montatore, eccetera, e poi c'è un unico director che ci guida tutti in una direzione come c'è il condotto, il direttore d'orchestra in un'orchestra, altrimenti ognuno farebbe un film diverso. Noi possiamo apportare qualsiasi tipo di idea come proposta, ma se non è accettata da regista non la possiamo fare. Per cui questo conflitto che hanno creato gli americani dichiara quello che prendeva la decisione. Immaginate che per esempio l'ultimo imperatore è diretto da Bernardo Bertolucci e prodotto da Jeremy Thomas. Chi ha preso l'Oscar come miglior film? Non Bernardo Bertolucci, il produttore, perché nei ruoli è il produttore in America che è quello che ha gestito dall'inizio tutto il film, come epoca originale. Perché tutti i grandi registi americani, Spielberg, Lucas e Coppola, sono allo stesso tempo producer, produttori, perché è l'unica maniera che sono quelli che conducono tutto il film. Hanno creato questa grande confusione in Italia e compagnia, per cui tutti si chiamano oggi direttori della fotografia, ma non ci possono essere due directors in uno stesso film. Uno dirige la visione e uno dirige il contesto della storia. È sbagliato, è come due direttori di orchestra in un'orchestra. Secondo, come diciamo prima, fotografia, fotografi, è l'espressione su una singola immagine. Noi necessitiamo, come in questo momento, una serie di immagini. Per cui io dal 1980, quando mi hanno riconosciuto con Apocalypse Now, in cinematography, the best cinematography di Vittorio Storari in Apocalypse Now. Mi ha chiamato il ministro dell'epoca, una persona molto gentile che lei, per congratularsi con me, ha detto, dico, lei si congata per questo premio, diciamo, internazionale, però voi ci considerate come dei puri esecutori tecnici nella legge italiana. Ma no, signor Vittorio, ma che dice? Sì, prende la legge italiana. Nel 1941 il legislatore ha dovuto definire, diciamo, chi sono gli autori dell'opera cinematografica. Certamente lo scrittore e la scrittura è un'arte talmente millenaria che era chiara che uno doveva essere lo scrittore, no? E quindi hanno dato addirittura due riconoscimenti, perché a volte c'è chi scrive la storia, cioè il soggetto, e chi sviluppa la sceneggiatura da questo soggetto. Quindi gli scrittori hanno due riconoscimenti. Poi c'è il musicista. La musica è da sempre, da millenni, e quindi è facilmente riconoscibile. E l'immagine? Non sapeva il legislatore nel 1941 a chi era, diciamo, l'autore della parte visiva. E l'ha data tutta sul regista. Quando non è vero. Nel senso che il regista dirige tutti quanti, decide tutto. È l'autore centrale. Cioè manca, perché senza la luce… Mi spenge questa luce per piacere in secondo. Praticamente il cinema, all'immagine, non si vede. Chi decide il tipo di luce e la qualità in quel posto, di qua, di là, soffuso, eccetera, eccetera, è l'autore della fotografia cinematografica che sarei io e tutti questi qui. Per cui noi stiamo inseguendo dall'epoca, adesso lo stiamo facendo però tutti insieme. C'è una commissione proprio in questo momento che sta decidendo questo per andare a Bruxelles. Su questo di ottenere il diritto, il riconoscimento sull'autore della fotografia cinematografica come coautore del film. Cioè dovrebbero diventare, in realtà, che è giusto, tre grandi coautori del film. Perché prima di tutto c'è l'immagine. I fratelli Lumière erano autori di tutto. Era film quando hanno messo due immagini di seguito. Era già cinema. La musica, che è venuta subito dopo, soltanto quando è accompagnata dall'immagine diventa una parte di autorità del cinema. E lo stesso lo scritto quando è venuto il cinema sonoro. Quindi sia la letteratura che la musica a sé stanti sono due altre arti. Solo quando sono accombinate con l'immagine diventano parte dei coautori dell'opera cinematografica. Giustamente c'è chi decide l'equilibrio di queste tre arti, immagine, musica e parola, che è l'autore centrale che è il regista. Questa è la nostra battaglia. Per cui anche ieri sera, quando mi hanno chiamato dal Social World Film Festival per riconoscere la mia opera e dandomi un premio della carriera e mi hanno chiamato direttore della trafia, ho dovuto rispiegare questa cosa. Mi meraviglia a volte che tanti giornalisti, ormai questa battaglia che stiamo facendo dal 1980. In Italia la legge sul cinema riconosce che il film è italiano se vi sono un certo numero di autori italiani. E parte dall'autore della sceneggiatura e dello scritto. La musica, il regista, il produttore e l'autore della fotografia cinematografica. La legge ci riconosce in questo. Non siamo ancora riconosciuti nel diritto internazionale come coautori dell'opera cinematografica, che dovrebbe essere poi portato alla SIAE, che è la società degli italiani degli autori e degli editori, che riconosce anche un riconoscimento in una minima percentuale di quelli che sono gli incassi, in quanto i costruttori dell'opera cinematografica sono queste quattro persone. Per cui non sono direttore della fotografia. E non lo voglio essere. All'epoca, parlo del 1958-60, al centro sperimentale non era pronta, non c'erano gli insegnanti anche, a insegnare l'espressione sul colore. La maggior parte era un insegnamento in bianco e nero. La luce, la penombra, l'ombra. E io per fortuna, il primo film, Giornizia e Giornizia, che mi è stato proposto era in bianco e nero, perché all'epoca c'era il pensiero che, i tecnici dicevano questo, la tecnologia del colore non registrava bene nelle ombre. Per cui i film a colori non erano adatti per i film drammatici, ma per i film in esterno, il musical o le commedie. I film drammatici erano, perché bisognava usare l'ombra, per avere questo rapporto dualistico, erano soltanto in bianco e nero. Devo dire che subito dopo, col conformista, io in Italia, Vilmo Zygmo in America, Billy Williams in Inghilterra, Gordon Willis anche in America, eccetera, abbiamo distrutto questo concetto, abbiamo portato il colore in modo drammatico. Come ci siamo arrivati? Innanzitutto con l'istinto, perché anche noi non avevamo la conoscenza. Mi è venuto in mente che nel 1970, nel conformista, che ha l'idea di fare una Roma claustrofobica, cioè di separazione tra luce e ombra, per il tipo di politica che c'era in quel momento, tra la vita naturale e la vita indirizzata da una dittatura, non solo, ma per il personaggio che aveva avuto una problematica a 12 anni e si sentiva disagio, si sentiva diverso e quindi aveva messo nell'inconscio un episodio che lui non riusciva a gestire a quell'età e quindi non voleva riconoscere chi era in realtà, si conformizza gli altri, gli uomini oggi passano la donna e gli guardano il di dietro, pure si girava a guardarlo, ma non perché ne sentiva il bisogno, imitava gli altri, tutti sono fascisti, anche io sono fascista, anzi ancora di più, farò la ricerca degli antifascisti, questa è la storia del conformista, nel finale scopre chi è veramente lui e che ha tentato di essere nascosto, però nel momento in cui c'è nella storia la necessità di spostarsi da Roma a Parigi, all'epoca Parigi la Francia era la città dei fuoriusciti, cioè chi non amava vivere nella dittatura spagnola o quella italiana andava a Parigi e quindi dico a Parigi ci vuole un'apertura, ci vuole una comunione tra queste due cose che ho separato e arrivai, per fortuna era inverno e mi trovo a Parigi che era più o meno il tipo di atmosfera che c'è adesso in questo momento, che è tutta plumbea, grigia, erano i primi di dicembre, molto fredda, rispetto alla luce artificiale aveva questo senso di un film che è bella tutta Parigi così, diceva Vittorio come facciamo? Adesso questa scena qui va bene, la facciamo, ma dopo viene scuro oppure domattina è più chiaro, io dico non lo so Bernardo, mi arrangerò, però secondo me dovrebbe tutta Parigi deve essere così, è come un simbolo, cioè io ho scoperto un colore, lui mi ha detto guarda tentaci, però ricordati noi giriamo da 9 di mattina fino a 6 di sera e quindi sta a me usare un filtro, quelle che sono le tecnologie per poterlo fare e alla fine ci sono riuscito, più o meno, ma ben chiaro come ragionamento. Due anni dopo facciamo l'ultimo tango a Parigi e io mi ricordo il primo sopralloghi con Bernardo, dico Bernardo, sto pensando disperatamente a come possiamo vedere Parigi adesso con una storia diversa, per fortuna i sopralloghi erano ancora d'inverno e ancora di giorno, un mattino che giravamo per la macchina e cercavamo dei luoghi, io vedo che Parigi è tutta illuminata di luce artificiale, come adesso praticamente, i portoni, i bar, le case, i ponti, dico ma guarda che bello, c'è una Parigi tutta luminosa e la luce artificiale adesso è calda rispetto alla luce naturale, quello che abbiamo fatto è esattamente il contrario del conformista, è tutto arancio e dice che bello, mi sembra la Ville Lumière, abbiamo fatto il film così, perché? Ma io non sapevo i significati dei colori, perché il rosso dà un certo tipo di sensazione, il verde, il rancio eccetera, altre sensazioni. Ho fatto 900 con Bernardo e abbiamo diviso tutto l'anno in quattro stagioni e quindi dato a ogni stagione un tono cromatico, ma come me lo sentivo? Ma in realtà la mia prima scuola è stata la pittura primitiva, piccola, perché subito, poco prima del conformista, dopo il Giovinista Junetta, sono andato in Icoslavia a fare un piccolo film da un racconto su Muravia e ho scoperto la pittura primitiva Icoslava sul vetro, dipingevano sul vetro questi artisti e io sono rimasto sconvolto dalla saturazione cromatica, perché il vetro non assorbe, come fa la tela o il legno, per cui il colore rimaneva puro. Sono dipinti naif, primitivi, in cui i contadini si esprimono in un modo emotivo, non hanno fatto le scuole, non hanno fatto l'accademia, mi hanno sconvolto. Quando Bettolucci mi propone il strategia del ragno e mi propone una visione alla Irene Magritte che io non conoscevo e non capisco bene come si poteva inserire nella visione a Irene Magritte, poi l'ho capito mentre lo giravamo, gli ho proposto la visione che appena appena arrivato lì a Parma, avevo conosciuto un pittore che era un pittore primitivo loro, il più grande pittore primitivo di quel momento e gli propongo questo tipo di visione. Ben andato a fare e dice beh, certo mi piace, vediamo come inserirla. Io in pratica ho avuto… Antonio Rigabù era il pittore, che poi è diventato un grandissimo pittore, era un pittore, anche lui era uno suizio che viveva a Parma, vicino Parma a Guastalla e dipingeva nella giungla, le cose nella sua immaginazione. Cioè la mia prima scuola di pittura è stata la pittura primitiva. Solo dopo, piano piano, quando ho finito Apocalypse Now addirittura, anche lì ho usato i colori in contrapposizione ai colori naturali, cioè i colori artificiali dei fumoni che usavano gli americani per fare i messaggi agli elicotteri. Ho riuscito a fare un film in conflitto, sempre due energie, artificiale e naturale, sempre in un piano emotivo. Alla fine mi sono fermato in questa casa per un anno, rifiutando film e studiando. Ho ripreso i libri di Goethe, i libri di Isaac Newton, ho capito quello che era la simbologia, la fisiologia, la drammaturgia del colore. Quindi da lì in poi, quando ho fatto La luna con Bertolucci, Un sogno lungo giorno con Coppola, sapevo il significato di simbolo colore e quindi potevo usarlo ampliando il mio vocabolario visivo. Non era più il nero, grigio e bianco, ma nel bianco ho aperto sette colori, a cui potevo dare un colore a secondo delle varie personalità, come ho fatto con un sogno lungo giorno, a ogni singolo personaggio e quindi li mettevo in armonia o in conflitto a secondo della sceneggiatura. Oppure su un piano simbolico, perché Bernardo è sempre su un piano simbolico, si è espresso. Quando nella luna, lui titola il film La luna quando è la storia di una madre, perché la luna è il simbolo della madre e quindi ho cercato di tirar fuori quelle che sono le simbologie dei colori. E qui entra in campo Jung, entra in campo Freud e compagnia che man mano studiavo, cioè come ognuno di noi nella nostra infanzia ha avuto delle cose che gli sono accadute di fronte ai propri occhi e rispetto se erano cose di amore o di conflitto. Una madre e un padre che fanno l'amore, una madre e un padre che litigano per esempio. Che tipo di colore c'era in quel momento? Perché il maglione della madre o la sciarpa del padre oppure un raggio di sole al tramonto? Quindi si vede quel colore in riferimento all'emozione di quell'evento. Questo è il fatto di simbolico. Ma il grande studioso è stato Ippocrate per me, quando ho studiato che questo medico dell'antica Grecia studiava il comportamento dell'essere umano rispetto agli elementi, proprio il vento, l'aria, l'acqua e la luce fondamentalmente, in quanto questa benedetta emissione è energia. Quando arriva verso di me, non la vedo solo con gli occhi, ma con tutto il corpo e mi da un certo tipo di… arriva una vibrazione. Questa non è una mia idea, è scienza. Mi cambia il battito del cuore, mi cambia il metabolismo, mi cambia l'emozione. Nel momento in cui scopro questo e vedo che c'è un comportamento nostro perché ci si alza proprio il metabolismo, se sto di fronte a un rosso rispetto a un verde che me lo calma o rispetto a un blu che me lo abbassa addirittura. E quindi io posso usare questo tipo di vocabolario visivo scrivendo con la luce e con i colori. Una bella lezione oggi ragazzi. Da una delle tre arti fondamentali del cinema, come dicevo prima, la prima è l'immagine, senza due immagini come minimo insieme non è cinema. Poi ci si è accostata la musica e poi la letteratura. Cosa vuol dire letteratura? Vuol dire che la mia espressione non è come nella fotografia in un fotogramma che io mi devo esprimere. Cioè che può essere bello, interessante eccetera. No. Quei fotogramma deve avere un senso in uno inizio, in uno svolgimento e di un termine. Come scrivere un romanzo, un film. Ecco perché è il movimento. Quindi l'idea viene fondamentalmente dal fatto di che tipo di visione, racconto, tu fai in, diciamo, in modo che abbia un senso compiuto come ha un senso compiuto la storia. Ecco perché mi piace scrivere con la luce, non dipingere. Quindi io non sono, credo, un buon fotografo. Forse, almeno da tutti i riconoscimenti che mi sono arrivati, sono ancora, spero ancora per qualche filmettino, un buon cinematografo. Però la scoperta che ho avuto, che ho dicendo prima, di mettere due immagini insieme nella fotografia, che all'inizio è stato un errore e poi l'ho capita, che sono queste immagini in doppia impressione che sono adesso a Palazzo Medurana esposte, mi hanno elevato la mia visione fotografica. Quindi anche come fotografo posso rispondere. Quindi ecco lì che senza la letteratura non ci sarebbe la scenografia praticamente, cioè non ci sarebbe lo svolgimento. La mia prima cosa è leggere la storia scritta di una sceneggiatura e quindi sentire l'opinione del regista, che tipo di stile, che tipo di qualità volebbe fare eccetera eccetera. Poi devo trovare un modo, diciamo, in un linguaggio visivo, seguendo il contesto fondamentale della storia. Quando Francis Coppola mi chiama per Apocalypse Now e io gli dico, scusi Francis, io con tutto il rispetto, ma cosa c'entra in un film di guerra americano su Vietnam? Quando in Italia stiamo facendo dei film con Bertolucci su Moravia, con Montaldo faccio la storia di un filosofo come Giordano Bruno, parliamo di livelli di inconscio, preconscio, cosciente, penombre, cose eccetera, cose sottili. Qui mi sta parlando di un film di guerra lei. Dice no Vitero, questo non è un film di guerra. Leggi Cuore di Senebra di Joseph Conrad, lì troverai la mia idea. Leggi quella cosa lì, poi se ti fa piacere vieni con me in Australia, facciamo i primi superluoghi, ci conosciamo bene e poi tu mi dici la tua risposta. Io rimango scuolto e d'accordo. Mi vado a leggere altri cittadini e poi ti mando un copione in italiano in modo che te lo leggi più calmato, perché io parlavo un inglese molto, molto povero all'epoca, adesso me lo arangio abbastanza. Capisco da Joseph Conrad che su un piano letterario, lui dice una cosa, in Cuore di Senebra, c'è il Belgio che conquista il Congo e quindi si appropria della cultura del Congo, perché la schiaccia, ci impone la propria cultura e fa un atto di violenza. E io capisco questo, dico accidenti se mi interessa questa cosa qua, perché Frenzi mi dice, io questo voglio dire Vittorio, io voglio dire che tutte le civiltà che sono state fondamentali per portare avanti il progresso, se no ognuno sarebbe rimasto nella sua epoca, però dobbiamo dire che hanno fatto anche un atto di violenza distruggendo. Quando la Spagna va in Messico e si appropria della cultura asteca e la distrugge, fa un bene perché porta avanti e perché toglie i sacrifici umani. Sa quanti persone venivano uccise quando c'era una festa perché il dio Quetzalcoatl chiedeva il sangue per dare la benevolenza a quegli indigeni? 20.000 persone al giorno viene sguattato il cuore e portato via. Certo altre parti della loro cultura sono state distrutte, ma sono state distrutte anche questo. Certo l'arrivo della religione cristiana non ha fatto bene lì, sono stati milioni di morti tra conflitti religiosi etc., ma questa è parte diciamo di quello che si chiama la conquista, è quello che si chiama la civilizzazione. Dice io voglio dire la verità, che su questa parola, e tu Vittorio sei italiano, parte dell'Europa, quindi conosci bene queste cose qua, più di un americano. Quindi ho visto il conformista e ho bisogno di raccontare questa cosa dicendo la verità. Ecco lì dove lui mi ha diretto subito nel primo incontro. Io ho capito che lì potevo usare l'energia visibile artificiale, cioè la luce e quindi i vari colori, anche se non ne conoscevo il significato, qual era la differenza tra uno e l'altro, non la sapevo, sovrapposti alla luce naturale e quindi ho creato un conflitto visivo sia di colori che di luci. Questo è un pochino il ditato che ho fatto, cioè la cosa fondamentale, quando Bernardo Tucci prende la macchina da presa, il mirino gira e si prepara, lui sa il testo ovviamente, cosa fa Woody Allen adesso? Woody Allen è uno dei più grandi scrittori che ho conosciuto. Per lui la cosa fondamentale è lo scritto e lui è un grandissimo regista di attori, di licitazione. La sovrapposizione, la congiunzione, il matrimonio che mi ha fatto tra me e lui è il fatto che traduco quella sua letteratura, il suo concetto in visione e fin quando rispecchio e rispetto ciò che lui ha scritto, lui lo ama. Altrimenti si è sempre messo in contrasto con la visione cromatica, perché lui ha amato il cinema classico degli anni 50 e 60 in bianco e nero. Quando l'hanno costretto a fare i film a colori, perché l'industria, la distribuzione, chiede il colore, perché i film bianco e nero a un certo punto negli anni 60 hanno cominciato a non avere più una peeling, gli anni 70 anzi. Lui l'ha preso come una cosa di dovere, quindi ha voluto fare film che erano appena morbidi, caldi, un pochino, ambra, leggeri film, ma uniformi, non c'era un rapporto di simbologia, di climatica, eccetera. Per questo quando lui mi ha chiesto tramite un agente se volevo fare un suo film, io gli ho detto io devo leggere la sceneggiatura, devo capire se quella storia che lui vuole fare mi appartiene, perché noi abbiamo un piacere, ma anche un dovere, di fare le cose in cui crediamo. Perché devo fare un film in cui non credo, in cui magari ci sono delle cose di violenza o volgari che io non sono, a cui non voglio appartenere, a cui non voglio dare la mia parola o la mia visione. Quindi non posso fare tutti i film, devo leggere cosa lui vuole fare. Secondo, avendo letto quella storia e avendo detto no, mi piace, è sul mio tragitto, quindi mi posso attaccare a questo treno per andare avanti, è parte della mia vita, ma posso trovare un'idea figurativa da proporre rispetto a quello scritto, in modo che lui possa capire se è giusta o sbagliata, provarmela e quindi ho il desiderio di farlo. Perché qui una volta che un'idea non è mai un'idea quando non gli viene in mente, ma quando la si digerisce, quando la si fa propria e quando si trova il momento, le parole e il modo giusto di proporla, fare in modo che il tuo sogno diventi il suo sogno, come il suo sogno del film diventa il mio sogno che voglio fare il film, a quel punto ci scambiamo le cose e quindi quando lui accetta questo tipo di proposta, di visione delle sue parole, perché le trova giuste, questa cosa diventa mia e la metto sulle spalle e da quel momento non ci dormo bene se non riesco a farla, se non mi viene l'idea giusta e faccio qualsiasi cosa perché se sta cascando il sole e voglio fare l'ultima inquadratura con l'ultimo sole che tramonta, corro come un pazzo, prendo la macchina, sbatto da qualche parte, devo farla, perché devo farla? Perché quello sono io, cioè noi facendo giornalismo, facendo le riprese, facendo l'illuminazione, facendo la scrittura, siamo noi stessi, capiamo chi siamo, è il senso della nostra vita, quindi quando si arriva a questo c'è una parola che Gesù ha cercato di… parlo in questo momento di Gesù perché sto preparando un progetto sulla sua storia d'infanzia che lui ha cercato di portare in tutto il mondo e in buona parte ci è riuscito, che è l'amore, solo la parola amore può… se tu non ami ciò che fai non ami neanche ciò che sei e quindi non ami neanche il prossimo, come puoi essere amato se tu non ami? È una cosa bellissima, è una cosa semplice. Durante questi mesi di chiusura io sono stato qua, è stato benissimo. Questo è l'amplificazione di quello che c'è a Via Merulana. A Via Merulana si ferma nel 1994, questo arriva fino al 2020, anche incluso ai film di Budiale. In più ho fatto, ho scritto un libro tra il rapporto tra me e Bertolucci e ho preparato anche… qui ci sono tutte le immagini che vanno avanti al periodo che viviamo lì. arrivo… anche se metto dentro Luca Ronconi come visionario che è stato il più grande di Luca… ma arrivo a Dune, arrivo ai profeti, quindi a Woody Allen e quindi a Café Sociedad, al Dreny Day, al Rifkin Festival, l'ultimo che deve ancora uscire è questo. Dune 6. film su Mametto Bambino. Questo è l'ultimo film di Woody Allen, deve ancora uscire. Sapete cos'è il colore grigio ragazzi? È l'attesa, sta in mezzo. Dal nero Isaac Newton ha scoperto il punto che c'è, se è eccitato, il punto nero, il rosso, l'arancio, il giallo, poi c'è il verde e qui c'è il grigio, poi qui c'è l'azzurro, l'indaco, il violetto, quando sommi tutto questo, nero, grigio, forma il bianco. Praticamente il grigio è il fermo, l'equilibrio tra i colori caldi e i colori freddi e lo puoi utilizzare in due modi, uno lasciandolo fermo, per cui tutti si fermano, non sanno che fare, aspettano che ricomincia un'altra cosa, si annoiano, si scazzano tutti quelli che dicono che questo periodo è stato tremendo, che non potrebbero resistere e compagnia, oppure lo utilizzi uno pensando da dove vieni, cosa hai fatto prima, cerca di capire bene il tuo passato, mettilo in ordine. Io finalmente ho messo in ordine questo studio che era con tutte le cose messe sopra, perché arrivavo app, appoggiavo libri, appoggiavo cose eccetera, mi sono messo a posto la libreria, mi sono messo a posto le cose, poi mi sono messo a scrivere sul mio passato, cerca di capire chi sei in questo momento e prepara te stesso per domani, perché nel momento in cui ti aprono quella porta e tu puoi uscire e poi ricominciare a operare fisicamente, cosa fai? La stessa cosa che hai fermato sei mesi prima, l'anno prima, oppure fai un passettino avanti. Se non viene utilizzato questo periodo di stasi per prepararsi per dopo, è un peccato, perché veramente questo è il tempo perso. E mi dicono a me, ma stai lavorando? Io no, io mi sto diventando come un pazzo, perché questo è il mio piacere. Non faccio la differenza tra il mio dovere quando vado a girare su un set o quando torno a casa e sto con mia moglie oppure gioco con il mio nipotino che ha fatto il compleanno. È parte della vita, tutte e due fanno parte della vita, si uniscono. Non siamo due persone diverse. Adesso o stasera quando va col suo fidanzato? È sempre lei.